Lunedì 3 ottobre, San Francesco Borgia. È il 277esimo giorno dall'inizio dell'anno e mancano 89 alla fine. Il sole sorge alle 7 e 11, tramonto le 18 e 47. La luna si leva alle 9 e 21, tramonto le 20 e 11. Emanato un decreto con il quale si vieta ai tre capi del Consiglio dei Dieci di girare per la città, di entrare nei negozi o altri luoghi pubblici, ovvero a solito ritrovarsi la nobiltà durante il periodo del loro incarico. Tutto ciò allo scopo di evitare ogni occasione di broglio o altri maneggi. Le previsioni per domani. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Precipitazioni assenti. Temperature massime in aumento in pianura, stazionarie in montagna, salvo ulteriore calo sulle Dolomiti. Minime stazionarie e un leggero calo. Grazie a tutti.